Il porto di Gioia Tauro è il primo porto italiano per traffico merci, il decimo porto in Europa. Si estende su una superficie di 620 ettari ed è una delle maggiori infrastrutture presenti nel mar Mediterraneo. Lo scalo calabrese dà lavoro ad almeno 4.500 persone, di cui 2.000 portuali diretti e il resto nell'indotto. Le regole europee potrebbero bloccare il progetto porto di Gioia Tauro, per il quale il presidente della regione Calabria, Roberto Chiuto, tanto si sta spendendo. La Commissione europea è al lavoro per pubblicare entro fine dicembre un regolamento di implementazione alla nuova direttiva ETS, che dal 2024 si applicherà anche al trasporto marittimo per scongiurare possibili effetti negativi su alcuni porti del Mediterraneo, tra cui quello di Gioia Tauro. Con la nuova tassa sulle emissioni delle navi che entrerà in vigore a partire dal 2024, nel quadro della più ampia revisione del mercato europeo del carbonio, nei mesi scorsi in Italia, è emersa preoccupazione per l'applicazione della direttiva ETS al settore dei porti, e in particolare a quelli come Gioia Tauro, specializzato nel trasbordo dei container. La domanda sulle regole che potrebbero bloccare il porto di Gioia Tauro è stata posta al presidente del Parlamento europeo, Roberta Metzola, ieri in Calabria insieme al vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Su questo lo so che sette paesi europei, incluso l'Italia, hanno scritto con la Commissione per evitare che questa legge, che viene rinforzata adesso, non trova la possibilità che delle linee marittime evitano delle porte europee del sud, che sono importantissime, non solamente per il commercio del sud, ma anche per i consumatori. Questo è qualcosa che si sta, penso, discutendo, e per noi, anche io che vengo dal sud, per me mi preoccupa, e penso che quando, forse anche una lezione per tutti noi, quando facciamo delle leggi, le scriviamo, le discutiamo, le votiamo, non dimentichiamo tutte le parti dell'Unione europea, nel nord, nell'ovest, nell'est e nel sud. Grazie.